Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte dell'unboxing della roba nuova quest'oggi come vi ricordate da venerdì scorso se non l'avete visto vi lascio la i qui in alto a destra vi andrò a far vedere le esche nuove nuove da utilizzare prossimamente dunque ragazzi anche per questo video superiamo i 100 like mi raccomando lasciate like e dividetevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti non parlo d'altro tempo e via con la sigla grazie a tutti partiamo da una grande cosa lo riconoscete? speedx sono fatte mandare qualcuno un paio di belle colorazioni andiamo a tirarlo fuori spacchettiamo questo speedx questa colorazione è una di quelle che mi piace di più guardate che bella colorazione molto naturale perfetta anche per andare a pescare la spigola guardate che bella mi guarda un po' un'alborella un pesce comunque un pesce foraggio vi assicuro che le ancorette sono veramente buone me ne sono appena conficcata una sul pollice guardate che dettagli guardate che bello per ricordarci un attimo 9 cm per 11 grammi però 9 cm sono contati fino a qua il corpo in sé è di soli sette quindi i cavetani vi assicuro che la mangiano tranquillamente e questa è la prima chicca poi andiamo avanti con il suo fratellino guardate guardate qua che bellezza guardate questa è la colorazione che mi piace di più in assoluto cioè troppo bella per me non sto scherzando la adoro la adoro assolutamente i dettagli fanno paura c'ha dei riflessi che sono la fine del mondo non vedo l'ora di tornare a capire nel prossimo estate guardate qua guardate guardate che bello aspetta vi metto un po' più di luce guardate qua che bella guardate i riflessi che crea sono bellissimi questi riflessi se mi mette a fuoco l'esca è un pochino più bella guardate che riflessi questa è la mia colorazione preferita ma penso possiate capire anche voi cioè anche questa mi piace veramente tanto però questa ha il suo perché poi poi vediamo un po' cosa abbiamo qua c'è un bel po' di roba ecco mi sono fatto mandare come ultimo quello che avevo già perché mi si è un po' scolorito un po' greffiato perché 30 pesci in una giornata vorrei ben dire cioè ha tenuto anche troppo voglio uno un po' più nuovo per il prossimo anno andiamo avanti cambiamo strato d'acqua andiamo sotto la superficie con il seica blade mi 125 qua capite già che l'ultralight lo sta un pochino abbandonando per ora ho preso questo jerkbait sinking 125 anche perché adesso che ho la canna per buttare i jerkbait perché non prendere i jerkbait cioè scusatemi mi sono dimenticato il peso allora 125 mm quindi 12 cm e mezzo 14 grammi e mezzo quindi not bad per una profondità che sta tra lo 0 e il metro quindi molto shallow questo l'ho preso per andare a basse e anche trote guardate qua fa un sacco di riflessi oltre che a branzini magari serra questa colorazione tra l'altro è ottima poi perché no un bel crankbait colorazione naturale stiamo parlando del crank naxo 85 bel crank per andare un po' più in profondità 85 mm per 9,6 grammi e un range massimo di 2 metri eccolo qua vediamo un attimo colorazione molto naturale bei riflessi guardate che bel palettone guardate qui che bel palettone bella colorazione naturale che potrò andare a utilizzare anche quest'inverno alla ricerca di big chub e big perch adesso fatemi vedere un po' qua adesso ragazzi adesso vi faccio vedere un po' di novità partiamo da dei nuovi spoon che devono almeno alla registrazione di questo video devono ancora uscire vado a presentare prima di tutto allora ce ne ho tre tre colorazioni diverse e grammature fatemi vedere 2,5 1,8 3 grammature diverse partiamo con quello più leggero allora il primo è il Sonic Sega Sonic un grammo e 8 e questa è la colorazione 0,5 forma molto compatta retro oro vedete il retro è oro amo veramente veramente piccolo come si può vedere è veramente piccolo ed è già barbless quindi senza ardiglione e questa è la prima novità attenzione ragazzi ci sono veramente tante belle robe poi il secondo spoon che la colorazione mi intriga veramente tanto mi piace molto è il fin perchè molto sottile 2,2 grammi colorazione 0,2 forma più stretta in moto in moto ovviamente più stretto eccolo qua sempre retro oro e vedo la colorazione caramella guardate qua anche qua stesso amo il fin è un'altra serie che uscirà a breve poi abbiamo il gram lt quello più pesante 2,5 grammi con questa colorazione un po' più naturale spenta a differenza degli altri due che erano più accese andiamo a tirarlo fuori anche questo no questo invece di avere il retro dorato ce l'ha giallo questo davanti e questo è il retro sono comunque spoon molto compatti molto concentrati non sono sottilissimi sono molto concentrati dimensioni veramente ridotte rispetto alle altre categorie perfette per la pesca di ricerca quindi e soprattutto per pesci un po' più apatici un bel po' più apatici rispetto alla concorrenza e qua abbiamo gli spoon adesso andiamo a tirare fuori le hardbait allora due hardbait che sono già uscite che potete trovare anche sul sito sono il minov lts50 che adesso vi vado a tirare fuori che è un minov di 3 grammi che ho preso anche per andare a trote oltre che trote ovvero torrente oltre che cavedani e chi lo sa magari anche trote ci metto su una metto singola via colorazione l'ho presa molto naturale che ricordasse un po' la tota mamma mia che riflessi che riflessi signori guardate qua con questo azzurrino fa paura questa forma molto piccolo veramente molto ma molto piccolo arriva a 80 cm di profondità ovviamente 5 cm veramente piccinino colorazione veramente stupenda e poi abbiamo il suo fratellino di un'altra colorazione che se magari ve lo tiro fuori lo vedete colorazione simile un po' più chiara un po' più naturale che riguarda un pochino di più una trotina eccola schiena verde guardate che bella fa paura questo minno fa veramente veramente paura voglio andare a utilizzare peccato che non è estate se no subito e ora vi vado a presentare la trasposizione del sea bass killer per l'acqua dolce un'esca che per i cavalliani va benissimo la taglia più piccola di quella salata adesso creata apposta per l'acqua dolce ce ne ho ben due il suo nome è Tanashi come caratteristiche è un jackbait suspending che sta tra il metro e il metro e mezzo da 6 centimetri e mezzo e il peso di 4,9 grammi c'ho due correlazioni una un po' più naturale che è quella che avevo appena fatto vedere e l'altra che a me piace veramente un sacco cioè appena ho visto ho detto no cavolo adesso questo lo voglio tirar fuori subito eccolo qua deve ancora arrivare sul sito e guardate che bello palettina opaca molto stretta guardate verniciatura opaca schiena nera corpo giallo pancia bianca stupendo veramente veramente bello ma fa veramente paura che belli amici guardate guardate che bello mia nuova l'esca preferita in assoluto soprattutto per caverani trote bass volendo quando sono un pochino più fatici questi in questo adesso ci vado a prendere i branzini adesso vi faccio vedere l'altra naturale che vi avevo fatto vedere in precedenza e qua direi che abbiamo finito colorazione un po' più naturale ricorda un'albolella perfetta per caverani e bass soprattutto quando sono un pochino più apatici hanno bisogno di presentazioni piccole e questo è perfetto vorrei provarlo anche a trote perché secondo me questa colorazione va benissimo a trote bene ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto c'è un sacco di roba interessante da provare e andrò a provarla molto molto presto quindi mi raccomando ragazzi lasciate like quando vi vedetevi iscrivete al canale se non siete qui riscritti ditemi un po' la vostra secondo me ci sono state un sacco di esche veramente veramente fenomenali e spero di andarle a provare il prima possibile anche se sono le 11 di sera io adesso prendo dai che andiamo dai che andiamo a pesca perché voglio provarle scherzo a parte direi che tanta tanta roba e non vedo l'ora di provarla dunque direi che per questo video è tutto ciao a tutti